E' un vino della provincia di Pesero Orbino ad essere incoronato dalla guida specialistica Dr. Wine come miglior vino nel rapporto qualità-prezzo per il 2024. Si tratta del gazzo, bianchello del metauro del 2023 prodotto dalla cantina di Sante di Carignano che è stato presentato ufficialmente in una degustazione organizzata ad hoc nel mercato coperto Campagna Amica di Coldiretti, aperto in Viaggiolitti a Pesero un anno e mezzo fa. Oggi la giornata è dedicata in particolar modo al vino e alla chiusura della vendemmia praticamente e in occasione di questa giornata vogliamo festeggiare anche con molto orgoglio un vino che ha vinto il primo premio a livello nazionale per il miglior rapporto qualità-prezzo. Un premio prestigioso, un premio importante che mette in evidenza il fatto che nella provincia di Pesero ma direi nelle Marche ci sono molte eccellenze e questo lo dimostra. E' un vino che quindi ha portato a livello nazionale l'orgoglio del nostro territorio proprio perché l'uvaggio utilizzato per questo vino è un bianchello del Metauro autoctore nativo della nostra zona, della vallata del Metauro se vogliamo anche poco conosciuto. Logicamente è un monovarietale quindi viene utilizzato per il 100% biancame o bianchello del Metauro e l'impianto nello specifico che viene utilizzato per il Gaza ha 15 anni su terreno tufaceo e quindi la cura e la passione che viene messa in ogni passaggio dalla vite alla bottiglia dona delle caratteristiche di qualità importante che hanno permesso al Gaza di vincere questo premio. Il tutto contenuto in un prezzo modico che dà la possibilità a tutti di avvicinarsi a questa tipologia di vino. Il Gaza ha un colore giallo pallierino tenue con una gradazione alcolica di 12,5. Dal punto di vista olfattivo si risentono delle note floreali e agrumate molto delicate che poi si ritrovano anche al palato oltre a una mineralità data dal terreno in cui viene coltivato il vitigno e anche una nota, è fresca, nota acida che lo rende molto versatile come vino per quanto riguarda gli abbinamenti. Abbinamenti che sono stati gustati negli stessi spazi del mercato Campagna Mica. Partendo dal pane del mulino Gentil Verde abbiamo poi messo per la proposta vegetariana abbiamo pensato a un patè di zucchine e per la proposta classica del pane con sopra il lardo e del miele di castagno. Non solo un vino da premio, nell'occasione è stato gustato anche il succo d'uva naturale della Cantina di Sante con la creazione di un apposito drink analcolico. Abbiamo deciso di abbinarlo, di creare una proposta se così vogliamo dire giovane e creando un drink analcolico con acqua frizzante e mele quindi anche rimanendo nella stagionalità dei nostri prodotti.